Ciao a tutti, sono Roberto Martini ed oggi per la prima volta in vita mia recensirò una scarpa di Decathlon. In particolare ho provato una scarpa da trail, il modello MT Cushion Trail della Evadict. Una scarpa che è stata senza dubbio una piacevole sorpresa, perché molto spesso, troppo spesso, ho considerato le scarpe della Decathlon come scarpe di secondo livello, scarpe di bassa qualità e invece oggi mi sono ricreduto con questa scarpa. Però, come sempre ragazzi, andiamo per gradi e ci tengo a fare la mia premessa. Decathlon mi ha inviato questa scarpa per testarla, provarla e recensirla, ma non vengo pagato in nessun modo per fare questa recensione e quindi tutto quanto quello che dirò sarà onesto e sincero al 100% come sempre. Ora, passiamo a qualche dato tecnico fornito dalla casa. Questo è un modello protettivo pensato per le lunghe distanze. Il peso dichiarato sul sito per il numero 42 è di 280 grammi, mentre invece nel mio 45 questa scarpa pesa 318 grammi. Quindi forse il 280 non è proprio corretto. Poi, qui sotto sulla suola, abbiamo dei tacchetti abbastanza importanti di un'altezza di 5 mm, proprio per avere più grip. E sono anche abbastanza distanziati per permettere al fango di staccarsi facilmente dalla suola. E poi abbiamo un drop di 4 mm tra l'avampiede e il tallone. Quindi non è un drop altissimo. La calzata della scarpa sull'avampiede è normale. Non è una pianta larga, non è wide, è comunque media. E adesso, come sempre, passiamo ad elencare i pregi e difetti di questa scarpa. Iniziamo con i pregi. Punto numero 1. Comfort. Devo ammettere che questa scarpa è comoda. Nonostante l'avampiede non sia larghissimo come quelli che piacciono a me, è comunque molto comoda. E proprio l'altro giorno ci ho corso per 40 km con 1500 metri di dislivello e non ho avuto alcun fastidio, non ho avuto alcun problema di vescica. Comunque la scarpa è comoda ed è una scarpa che si può portare bene sulle lunghe distanze. Poi, il secondo punto a favore molto importante, ragazzi, è il prezzo. Al momento la trovate. La Decathlon ha soltanto 89 euro. E sinceramente, a questo prezzo, secondo me, non si può trovare molto di meglio. A meno che non andiamo su modelli degli anni passati che troviamo magari scontati su dei siti, in offerta, cose di questo tipo. Però comunque 89 euro per una scarpa è un buon prezzo. Pensate che il modello che sto testando adesso, la Mountain Racer della Topo, costa 160 euro. Quasi il doppio. Questo non è un fattore da sottovalutare. Poi, terzo pregio, durabilità. Al momento ho percorso circa 150 km con questa scarpa. E posso dirvi che si sta comportando bene. La Tomaia è ancora in ottime condizioni e non si sta strappando da qualche parte, non ci sono cenni di usura strani. Quindi la Tomaia sta messa bene. Sotto la suola sta messa bene. Come potete vedere, non sono molto consumati i tacchetti. E quindi sta reggendo bene il chilometraggio. Logicamente, ho letto alcune recensioni sul sito della Decathlon dove si lamentavano che la suola durasse poco. In questo caso, secondo me, dipende molto su quale tipo di sentieri corriamo. Ci sono alcuni sentieri con un fondo che tenderà a consumare le scarpe molto più velocemente rispetto a quando corriamo, per esempio, su uno sterrato, su un sentiero in terra. Ecco, quindi va valutato questo aspetto. Nel mio caso, invece, la scarpa è ancora in buone condizioni. Quarto e ultimo punto a favore, materiali. E qui, devo dire che sinceramente, a 90€, mi aspettavo una scarpa un po' più scadente. O almeno questo era quello che ho sempre immaginato. E invece, questa è stata una grande rivelazione. Questa è una scarpa buona. E sinceramente è uguale, se non meglio, di molti altri marchi più famosi che io ho provato. Quindi questo è un grande punto a favore, secondo me. Ed è per me la sorpresa più grande nel provare una scarpa di questo tipo. Bene, adesso passiamo ai difetti, perché sì, questa scarpa è stata una bellissima rivelazione, ma non è perfetta. Un po' come tutte le scarpe. Difetto numero uno, ed è il più grande che ho riscontrato, è la stabilità. E sotto questo aspetto non è la prima scarpa che provo con questo difetto. E probabilmente è anche un po' colpa delle mie caviglie, che sono un po' malandate. E quindi tendo a prendere facilmente delle storte. Però, in questo modello in particolare, ho notato dei problemi di stabilità sul tallone. E una grande facilità nel prendere storte rispetto ad altri modelli che ho provato. Come se fosse sempre un po' traballante qui dietro. Se voi la conoscete, l'avete provata e avete avuto problemi simili, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Poi abbiamo il difetto numero due, ragazzi. Questa linguettona qua davanti. In particolare, ho notato dei problemi grandi nello stringere, nell'allacciare la scarpa. Nel trovare il giusto grado per stringere queste scarpe e tenerle ferme. Infatti, ho ovviato poi a questo problema, spostando i lacci nel secondo occhiello qui dietro, per portarli un po' più sopra. Comunque, questa linguettona mi ha dato dei problemi. È troppo grande, occupa troppo spazio. Non mi è piaciuta questa parte alta qui. No, è da rivedere. Ed è, secondo me, poi totalmente inutile questa taschina qui sopra, per rimettere poi i lacci dentro. Perché, in poche parole, i miei lacci andavano a finire sopra la taschina, non sotto. Poi, terzo ed ultimo difetto, il grip. E in questo caso, non mi fraintendete. Il grip è buono, sull'asciutto, sul fango, ma sulle rocce bagnate, umide, in questo caso, tende a perdere un po'. Purtroppo, in questo caso, dovete un po' accontentarvi. Non aspettatevi un mega grip qui sotto. Bene ragazzi, questi erano i fetti e adesso passiamo alle conclusioni. Secondo me, se state iniziando adesso con il trail, se non volete spendere un capitale per una scarpa, questa può essere la giusta soluzione. È il giusto compromesso. Va benissimo. È probabilmente la scarpa con il miglior rapporto qualità-prezzo che io abbia mai provato fino adesso. Se voi la conoscete, se l'avete provata, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, così possiamo aiutare altre persone e dare un feedback maggiore. Fatemi sapere come vi siete trovati. Bene, ragazzi, la recensione finisce qui. Se l'avete trovata utile o interessante, mettete un bel mi piace qui sotto per supportare il canale. Se ancora non l'avete fatto, mi invito a seguirvi su Facebook, Instagram, Strava. Ma soprattutto, ragazzi, andate a correre con le scarpe che più vi piacciono. Ciao ragazzi, buone corse a tutti!